Buongiorno, oggi è la volta di Downton Abbey, il film, non la serie, questo è il film tratto dalla serie che ha avuto molto successo, sei stagioni, più di cento episodi, la serie omonima ovviamente, Downton Abbey. Downton Abbey è una residenza aristocratica che si trova in Inghilterra, siamo agli inizi del Novecento e in questa residenza dove dimorano, dove vivono aristocratici inglesi e la loro numerosa servitù, si preparano ad accogliere per un weekend il re di quel periodo, re Giorgio V mi sembra, se vado di cos'altro i numeri, o comunque il nonno della regina Elisabetta, il nonno della regina attuale. Non è una storia vera, però si ispira oltre che alla serie importante che ha avuto grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti e non solo in Inghilterra, ma si ispira anche a delle realtà verosimili, a una situazione molto piacevole. In questa dimora, in questa residenza aristocratica in campagna, vivono ricchissimi e la servitù in un contrasto, ma non di classe, in un contrasto benevolo, amichevole. E' bello, forse questa serie e anche il film ha avuto successo, perché questo mondo è un mondo idiliaco, è un mondo che noi vorremmo fosse veramente così la vita, ovvero dove tutti anche con diverse fortune però riescono in modo ordinato, organizzato comunque a convivere, anche litigando. Quella che litica più di tutti, anche se in modo benevole, in modo amichevole, è una delle attrici più brave che abbiamo oggi proprio al cinema, che è Maggie Smith, che fa la Contessa Violet, che è bravissima, credo che abbia anche quasi 90 anni ed è la più brava di tutte in un repertorio di attori inglesi tutti eccezionali. Spero che il film vi piaccia, è molto sereno, è godibile e buona visione.